Italia da gustare, un viaggio tra le eccellenze italiane a cura del direttore Dario Bordè. Al Talent Garden per Buon Cibo Knorr, con la General Manager di Unilever, Mariangela Capolupo. Questo happening? Allora, noi abbiamo voluto creare un programma che si chiama Buon Cibo, che ha l'obiettivo di raccontare agli italiani come semplicemente si può effettivamente raggiungere uno stile alimentare che sia sempre buono, ma che sia sempre più orientato al benessere e alla sostenibilità. Perché abbiamo studiato quello che il consumatore oggi pensa del cibo in Italia e ci siamo resi conto che c'è bisogno di fare informazione. E una marca grande come Knorr, che raggiunge milioni di consumatori in Italia ogni giorno, ha effettivamente la forza per poter trenare un cambiamento. Ecco, effettivamente alle volte i grandi dicono non pensano a noi piccoli. Qua c'è un po' un stravolgimento. Beh, essere vicini agli italiani, alle persone che ci scelgono o che semplicemente ci osservano è effettivamente una responsabilità. Oggi pensiamo che le marche debbano effettivamente contribuire a creare qualcosa di migliore e noi con Knorr e con Buon Cibo vogliamo contribuire a scrivere un futuro del cibo un po' più sano e un po' più sostenibile. Ecco, tra l'altro, ma raccontiamo un po' il domani, il progetto magari sarà nato da qualche anno di studio merito anche alla nutrizionista Evelina Flacchi che tutti noi conosciamo. Insomma, il vostro domani, ho sentito parlare di social, ci racconti? A livello globale abbiamo fatto degli studi da cui poi sono stati ricavati 50 ingredienti del futuro. Una lista di ingredienti che effettivamente può contribuire a rendere la nostra alimentazione un po' più salutare e un po' più attenta all'ambiente. Noi abbiamo fatto una selezione di questa lista di ingredienti che spaziano da ingredienti molto conosciuti come gli spinaci, ingredienti un po' più lontani dal nostro vissuto come le alghe e abbiamo deciso di focalizzarci su quei 10-15 che effettivamente non sono così lontani dalla tradizione italiana. E insieme a Evelina Flacchi abbiamo scritto i consigli del Buon Cibo appunto che sono dei suggerimenti pratici per spiegare agli italiani come poter concretamente seguire uno stile alimentare un po' più sano e un po' più sostenibile senza mai rinunciare al gusto coniugando appunto questi ingredienti con le proprie tradizioni, con le ricette di tutti i giorni. Questi ingredienti poi li abbiamo inseriti nelle nostre innovazioni che effettivamente cercano di guardare al futuro e quindi si fanno forti della responsabilità della marca Knorr. Grazie alla vostra grande esperienza, alla vostra grande ricerca e soprattutto per averci tranquillizzato anche perché effettivamente si diventa sempre più consapevoli su quello che quotidianamente introduciamo nel nostro corpo e quindi un binomio sicuramente di cibo salutare. Grazie ancora e complimenti, buon lavoro! Grazie a voi! Da Milano con Mariangela Capolupo è tutto A voi l'onda!